... Hai fatto la tombetta di ritorno per dormire a coscienza a posto? Forse hai avuto anche il tempo di abbronzarti un po'. A me non mi va bene, mi dispiace, non mi va bene. Ok. Dai, faccio. Non hai capito? Tu non sali, vieni con me, passi del tempo con me, soffri. Vedi Serie A, vedi gli altri, ti vergogno, queste cose. Perché dobbiamo trasformare le cose così? Dai. Non mi strappi il cuore così e poi torno a scopare tranquillamente a Parigi. Ti assumi le tue responsabilità. Guarda, ci guardano tutti e li facciamo fare tardi per cui... E tu non mi hai fatto fare tardi, eh? Mettila, mettila. Degli anni della mia vita, della mia unica vita, per poi congedarmi così senza neanche prendere tempo di niente. Ma che cazzo dici? Un momento, signorietro, non sape partire. Signora, signore, bisogna chiudere le porti. No, 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 signore, io il mio biglietto, io il mio biglietto, signore, guardi. Io il mio biglietto, signore, che brava persona, regola. A me, a me, a me invece mi puzza il culo. Il segnale di partenza. Ma che cazzo dici che mi fai vergognare? Io ti sputo addosso. Aspetta, ma che cazzo fai, oh? Ma che cazzo fai? Non mi vedi più, non mi vedi più! Piantala! Cazzo fai, cazzo fai, cazzo fai, cazzo fai, cazzo fai. E lei? La ragazza che ho incontrato? Lei è quella della pubblicità. No, non ho capito, ho perso il filo, scusate. Sì, ho preso le mie cose e le ho portate a casa sua. Perché mi piace molto. Per questo lo sono venuto per... Per dirci, con lei va bene. Non è come con l'altra, che anche fisicamente... Te l'avevo detto, no? Te l'ho detto sempre. Ci capiamo. Quindi non... Ti volevo dire che appunto... Che nel caso che tu mi aspetti, non mi sembra giusto anche farti aspettare, no? No. Ti ho lasciato veramente questa volta, capito? Non ci saranno più le spiagge, le patatine fritte? Ma è uno scherzo. No. No, le patatine fritte non lo sai. Io lo so. No, le patatine fritte non lo sai. No, le patatine fritte non lo sai. nemmeno una nomination. Ebbene sì. Ragazzi ci trovate anche su TikTok, trovate il link nell'infobox e iscrivetevi cliccando sempre qui sotto per rimanere sempre informati e aggiornati. Ciao al prossimo video!